DR ha diverse iniziative strategiche in previsione per il 2024. La più importante è la New Vision commerciale che mira alla ridistribuzione dei partner sul territorio, alla semplificazione dei materiali da distribuzione e al rinnovo degli showroom con nuove vetrine. Oltre a questo, il progetto più importante all'interno della New Vision è dedicato ai materiali edili. I materiali edili hanno un'importante storia alle loro spalle, si sono evoluti molto in questi ultimi anni rinnovando lo showroom e ampliando il pacchetto di prodotti che offrono. DR, con tutta la produzione diretta che fa in casa, può offrire ai suoi clienti un pacchetto di prodotti completo e un servizio di pronta consegna. Il vantaggio competitivo del marchio DR affiliato al DR Emporium è quello di avere un unico interlocutore per tutta una gamma di prodotti che produciamo direttamente nei nostri stabilimenti e sono i controtelai per le porte scorrevoli da interni, le porte tagliafuoco multifunzione, le porte club e polilux da cantina, i portoni da garage e le porte interne. Oltre a una rete di 70 collaboratori esterni che possono supportare il cliente in in fase di preventivazione e rilievo misure. Inoltre offriamo un servizio di post vendita con tecnici qualificati e corsi di formazione su posa, manutenzione e certificazione dei prodotti. Le strategie di marketing per supportare i nuovi affiliati saranno molteplici. Affideremo loro un welcome kit che comprenderà cataloghi e listini e il materiale necessario per brandizzare il punto vendita. Abbiamo costruito una pagina web, un vero e proprio sito per il B2B dove potranno reperire facilmente schede tecniche capitolati e disegni in dvg. Oltretutto pubblicizzeremo sul nostro sito internet o sullo store locator tutti i nostri punti vendita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!